salve a tutti la perla di oggi sarà molto breve e avrà lo scopo di farvi riflettere su ciò che danneggia in generale la vita e la legge di attrazione la prima domanda che dovete fare a voi stessi molte volte al giorno è questa a cosa sto dando energia fatevi questa domanda proprio adesso che risulti più o meno semplice rimanere in uno stato di benessere dobbiamo sempre accorgerci dove sono indirizzati i nostri pensieri e le nostre emozioni se sono consapevole posso imparare con la giusta pazienza a virare nella direzione voluta la seconda domanda che mi devo porre è la seguente a cosa voglio dare la mia energia la risposta che otterrete da questa domanda sarà la chiave che potrebbe portarvi al raggiungimento del vostro desiderio se applicherete questi semplici consigli aiuterete la legge di attrazione a fiorire nella vostra esistenza buona vita a tutti